Sulla alluvione abbiamo raccolto 230.000 euro che sono il frutto dei 115 dati dalle persone e del raddoppio che la nostra cooperativa ha fatto. Questi saranno dati alla protezione civile perché ristori le famiglie che non hanno avuto altro tipo di ristoro. Poi oltre a questo abbiamo impiegato 50.000 euro nel momento in cui sono accadute le prime esondazioni e quindi nei giorni immediatamente successivi cercando di dare ristoro. Oltre a questo c'è un'iniziativa importante perché il nostro punto vendita di Campi Visenzi è stato colpito, chiuso e quindi molte delle persone che vi lavoravano sono state a lavorare da altre parti ma soprattutto hanno avuto danni. Quindi abbiamo dato un finanziamento senza costi e interessi fino a 20.000 euro, fino a 10 anni con il quale abbiamo erogato oggi circa 2 milioni di euro. Grazie a tutti!